Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Fare attenzione sulla A1 per nebbia a banchi tra Roncobilaccio e Aglio, sulla Fipili per pioggia tra Firenze e Livorno. E ricordiamo che potrebbero esserci possibili disagi tra Ginestra e Montelupo per i lavori al viadotto del Turbone. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 70 della Consuma, senso unico alternato e restringimento di carreggiata al chilometro 1 nel comune di Pelago. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!